Grazie Igor e Tal per essere Lady Oscar Ciao 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 a tutti i ragazzuoli sono Petro con il tanke E questo è un nuovissimo video che faccio Questa volta siamo al Cartoon Mix e oggi Confonderemo i cosplayer Bianco mando divertitevi A dopo L'avevi chiedergli di farti l'onda energetica Magari me l'avrebbe fatta Che dici? E' il turno di marco Siamo qua ragazzi con Naruto Grande Naruto Devi saltare Fai i salti di Naruto Corri con le bracciale indietro Chi? Ma non sempre gli sketch vanno come dovrebbero Adesso trogliamo quelli lì Quelli lì Un intero stem Stiamo andando a fare una foto con gli Avengers Grandi Avengers La manga numero uno Una foto con un susman poi Andwil Andwil lo hobbit Signore degli anelli C'è sicuro che noi siamo Siamo tutti Demi Beh Sempre Non ci vuoi Ma sei cattivo comunque No 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 Non può È un vero beccanile È già la terza volta che ti sbagli Sì Vabbè dai pazienza Che vogliamo bene lo stesso Possiamo fare un breve video Allora ragazzi siamo qua con Bob Marley Nella terra di Bob Nella terra di Bob Nella terra di Bob Sono nella terra di Bob Si vedono i Rasta Dove sono le canne Le cose Hai lasciato a casa? Sono sul suo pianeta natale Sul pianeta natale Qual è il pianeta natale? La giamaica Ah la giamaica Quindi con lo scibolt Grande sera Allora ragazzi siamo qui con Lady Oscar Ma sì che sei Lady Oscar Ma sei bionda Perché hai perso la spada L'hai lasciata a casa Hai messo Hai ragione Ragazzi abbiamo una Lady Oscar senza spada L'uomo 2 Vabbè va bene comunque dai Fai la nostra La dedica al canale Sì grazie Igor e il tank Per essere Lady Oscar Grazie Igor e Talver What the hell is this? Grazie Igor e Talver Grazie Igor e Talver Per essere Lady Oscar Perfetto Grazie mille Ciao grazie E questi ragazzi erano I scherzi ai cosplayer Confondendoli Ciao amico corri E' Naruto E' Johnny Ciao Johnny Ciao Johnny Johnny guarda i tuoi video Comunque ragazzi Io vi ringrazio tanto per la visione Vi invito a cliccare Sì esatto Quello I pollici Cliccate i pollici Cliccate like con i pollici Se il video vi è piaciuto E iscrivetevi al canale Perché bisogna essere In tantissimi A cliccare mi piace Con i ditti dei piedi C'è anche la Sabri Gamer Che mi vuole salutare Quella vista di bianco Non so se la vedete E' volato qualcosa Cos Vabbè Con questo Grazie della visione Ciao Ciao